Ciao a tutti, sono Aldo Masolo, siete sul mio canale YouTube e oggi sono qui nella palestra di Jacopo e Francesca che si chiama Body Fitness, no, Body, no, che si chiama Fitness Revolution, ah non l'abbiamo fatto neanche ah no, perché qui ripartiamo. Ciao a tutti, sono Aldo Masolo e siete sul mio canale YouTube. Oggi sono a casa di Jacopo che è dietro la camera e Francesca alla Fitness Revolution di Forlì, vi lascio tutti i dati qui sotto. Io sono venuto ad allenarmi con Francesca, quindi mi allenerò con una bikini pro. Infatti mi sono anche messo i pantaloncini di Francesca, guardate, quindi se vi sembra un arlecchino non è che l'ho fatta apposta perché mi ha lei concesso di mettermi i suoi pantaloncini. regalato i miei shorts. E io ho detto voglio essere bikini anche in questo, quindi oggi sarò bikini al 100%, mi mancano le tette ma adesso quelle poi troveremo il modo di farle. Quindi io seguirò per fine persone il suo allenamento perché lei ha un metodo di allenarsi un po' particolare. Esatto, quindi prendete appunti come nel video precedente che avete visto dalla nostra intervista in cui vi ha insegnato alcune chicche sull'alimentazione e sull'integrazione un po' in generale, su come vivere la vita da bodybuilder o comunque vivere una vita sana e in forma, lo stesso vi farò oggi per l'allenamento. Partiamo Francesca? Io seguo te con i miei pantaloncini. Faccio vedere anche il culo perché così devo vedere cosa preferisco il mio o il tuo ma probabilmente... Ma te, questi stai grandi però te. Ma io non li ho mai messi. Allora oggi andremo a fare un allenamento di lower, dunque di parte bassa, gambe e glutei, più che altro cercando di connetterla mente al muscolo, attivare le fibre muscolari, concentrarci il più possibile in quella parte che andremo poi ad allenare. Dunque adesso mostriamo a Dardo come si fa. Non è, non è, non è... Diciamo una cosa facile perché comunque ci vuole tante esperienze, penso che tu l'abbia acquisita, l'abbiamo poi acquisita noi col tempo. Però se sono bravi ragazzi a casa o comunque, cioè chi si sta seguendo, riusciranno a farlo e vedranno un miglioramento nel corso delle settimane e dei mesi. Partiamo dall'esercizio più semplice. Ok. Dunque l'esercizio, no coscia, l'abductor, esatto. Che non può mai mancare, penso, in un allenamento. No, no, in realtà è un esercizio secondo me il migliore perché più che altro il rischio di farsi male è zero, attivazione muscolare è 100 e dunque è ideale. Quindi lavoriamo il gluteo, soprattutto il gluteo. Adesso andiamo a lavorare sia il gluteo basso che il gluteo alto. Ok, quindi solido esclusivamente il gluteo. Escludendo le gambe. Ecco, questo è molto importante. Il mio allenamento particolare è un po' quello di lasciare un po' fuori il quadricipite perché altrimenti nella mia proporzione, nel, diciamo, quello che è poi la mia categoria non dà un'armonia giusta. Ok. Quindi lavoriamo esclusivamente il gluteo. Il gluteo, sì. Fammi vedere come tendi ad isolarlo. Allora, adesso ci mettiamo, ci posizioniamo in avanti. Ok. Sulla punta del sedile. Ok. Busti in avanti. Stringiamo, dunque, contraiamo il gluteo. Quindi parti già col gluteo contratto. Già contratto in andata e in ritorno, sempre. Ok. Facciamo a sfinimento. Io non posto né le serie né le ripetizioni. Vado a sfinimento. E con il riposo invece come lo gestisci? Anche lì a sentimento o hai... Almeno circa 30-40 secondi. Però non lo conteggi neanche quello o guardi l'orologio? No, 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 non lo conteggio. Visto come un po' facciamo un po' tutti, quando arriviamo a una certa esperienza, anche a maturità, il riposo è a sensazione. Quindi anche magari in base a come ti trovi quel giorno, sei un po' più stanco o non stanco, tieni 30, 40 o 50 secondi. Sì. Perché andiamo a reclutare di più il gluteo rispetto a che se stiamo tutti indietro appoggiati che recluti. Magari senti anche molto il quadricipite. Di più il quadricipite. Esatto. Sì. Ovviamente te hai molto di più, perché qui... No, no, io sono una donna che... Massimale. Mettiamo il massimale. Allora, allora mi metto così. Sì. Mi metto avanti. Sì, se ce la fai un po' più avanti col sedere. Tengo contratto il mio gluteino. Esatto, stringi. E in avanti col busto se ce la fai. E devo tenere contratta la parte alta, di solito, tieni di gru... tutto? Tutto, tutto, tutto stretto. Tutto contratto. Più vai in avanti col busto, sei dritto con la testa, esatto. Ok. Si sente? Qualche si sente? Ma è già la contrazione iniziale che comunque è impegnativa. Esatto, fa la differenza. Esatto, esatto. E beh, finché ce la fai andiamo a rompere le fibre muscolari. Tanto l'obiettivo è quello, per ottenere un miglioramento, un risultato, bisogna andare a rompere le fibre. Quindi vi rendete conto che una bikini vi dice di allenarvi a cedimento. A cedimento, sì. Dalla prima serie. Quindi tutte quelle cose, il buffer, mica buffer, sono onestamente tutte delle grandi stronzate, perché comunque sia il muscolo per farlo lavorare deve arrivare a cedimento, sennò che lavoro è? Sì, esatto. Puoi imbalizzare se si è stanchi. Certo. Beh, se si è stanco farai meno ripetizioni. Esatto, farei un po' meno. Però comunque se temi vai a cedimento, quindi anche tutti quei detti che le donne si devono allenare non a cedimento, sono tutte stupidaggini, detto da lei. Tanto è il cibo a regolare poi tutto il resto, l'incremento, il deficit e tutto quanto. Perfetto. Ok, adesso andiamo a allenare la parte alta. Una cosa che nessuno forse fa, quindi per fare il culo alla brasiliana? Sì. Quello attaccato, alzare il culo. Esatto, alzare il sedere dalla parte alta. Molte donne, la parte base ce l'hanno sviluppata, ma qui sono vuote. Sì, esatto. Dunque per alzare quella parte lì invece, siccome esistono macchinari, ma noi qui in palestra non ce l'abbiamo. Quale sarebbe il macchinario che non l'ho mai visto? Ce n'è uno che è un po' leggermente inclinato. Tu nell'aprire scendi un po' in lì dietro. Certo, sì, ho visto. C'è chi qualche palestra ce l'ha. Qui da noi in zona io non l'ho vista. Allora forse lì raccoglivo qua la parte. Lo fa anche la panetta, Jacopo, secondo te? Secondo me no. Quello inclinato, no. Per me l'ho visto in altre marche, sì. Che lavori inclinato, quindi lavori alla parte alta del gluteo. Questo è visto una cosa nuova. Ti faccio vedere. Allora, si possono utilizzare intanto o due cuscini. Ok. Quante serie fai di solito? Circa faccio quattro serie di media. Quattro per max? Quattro, cinque, base a semi. Per max? Sì. E quante volte le alleni alla settimana le gambe? I glutei faccio tre volte a settimana. Ok, quindi quell'allenamento che mi fai vedere te lo fai tre volte a settimana questo allenamento qui. Sì, poi varia un po' da esercizio a esercizio. Sì, però ho detto questo in generale lavori la lower body tre volte a settimana. Sì. Ok. Allora qui invece mettiamo il cuscino più piccolo. Ok. Che si posiziona sopra il gluteo. Ok. Dove si appoggiano poi gli lombari. Ok. Le punte all'indentro. Madonna, sì. E poi apriamo. Se stringi, bene. Parti già col gluteo contratto anche qui o no? Sì, sempre. Sempre, sempre attivato. E quindi qui senti la parte alta del culo? Sì, esatto. Hai calato, tieni un peso più leggero che la parte alta? Molto, la metà. Ok. Meno della metà, sì sì. Ah, non ce la fai se no. E si può fare con i cuscini o anche senza, si sentono ugualmente. In questo caso stai un po' più inclinato. Ok. E la ragione delle punte verso l'interno? Perché è il controllo di più da quella parte lì. Ok. Dunque l'esterno in realtà magari senti più lavorare qui. Invece con l'interno solo la parte alta del gluteo? Esatto. Ti faccio una domanda perché sono cose che non conosco. Ma questa tipologia di allenamento l'hai fatta nel senso che sei stata tu a trovare la soluzione giusta o hai avuto dei preparatori che ti hanno dato un po' di dritte per sfruttarlo? Per alcuni esercizi è stato il mio preparatore a dirmi come fare e io ho trovato però il mio modo. Ok. Perché magari se non funzionava bene per me dovevo trovare il modo che con quel macchinario, con quell'esercizio lì dovesse funzionare. In altri ci sono arrivata da sola. Addirittura. Come dopo vi faccio vedere degli slanci che molti fanno ai cavi ma che io evito completamente perché mi raccoltano quadricipite, lombare, non sento il gluteo ma in altri modi si sentono. Mi lascio senza parole. Stai indietro con la schiena? Ok. Cerca di concentrarti eh. Punte più in dentro. Ok. Urca, la punta cambia tutto eh. Hai visto come cambia la punta? Appena cambi più l'inclinazione delle punte, delle gambe cambia tutto. Qui sembra che ti punga la parte alta delle glutee. Ci sentono? Mamma mia. Qua in alto proprio. Sì. Che è una fascia muscolare che probabilmente io non ho mai attivato direttamente così isolandola. Sì. In pochi la sanno allenare quella in alto, sì. Tu l'hai fatto Jacopo? No. Vieni. Vuoi provare? Unisci a noi anche su per favore. Bello. E questo è un altro esercizio molto valido per andare a recutare una parte gluteo. Sì una parte perché non avete tutti i pantaloncini che vi aiutano a tenere sul culo ma qui poi non c'è da tenerlo su. Quindi se non ce l'hai non ce l'hai. Se non ce l'hai non te lo tira subì di tanto. Certo. Questa è una macchina che c'è in tutte le palestre quindi. Esatto ci si può adattare in base a quello che troviamo in ogni palestra. Andiamo a fare gli slanci. Vai. Slanci. Bello anche questo. Semplicissimi. Ok. Utilizziamo quello che abbiamo in palestra dunque va bene una cosa inclinata che sia più meno a livello diciamo del petto no più o meno. Solitamente negli slanci ai cavi viene fatto un movimento dunque c'è sempre un tirante davanti e dunque per forza viene recoltato il quadricipide. E dunque andiamo a fare questa cosa qui poi senza neanche contrarre più di tanto il gluteo perché è più di movimento. Ok. Invece se noi siamo più furbi possiamo utilizzare anche delle bande elastiche messe proprio sotto Sotto al gluteo. Ok. Che fa un po' più di resistenza dunque senti un po' di più. Però non tenendo il piede così ma così. In fuori. Sì. Che quindi così già mi contrai il gluteo così che si vede già che... Ma io lo tiro. Lo sta sempre a te. Sempre tirato. Sempre contratto. Quindi ti viene quasi naturale adesso tirare il gluteo a te. Appena parti in movimento tu ce l'hai già tirato. Sì perché così sfrutto il fatto della contrazione perché non uso pochissimo peso. Uso più la concentrazione a mente e muscolo e... Perché anche qui stiamo facendo qui gli slanci senza peso. Senza peso. Eventualmente per essere più pesante ci metti l'elastico non di più. Oppure abbiano due esercizi così per... Fanno super set. Esatto. Ruotiamo la gamba. Facciamo una massima contrazione su in alto. Scendiamo di poco. Quindi anche qui lavoriamo l'alto gluteo. La parte alta. E si può fare lo stesso per lo slancio classico così. Ok. Che usi un pochettino più anche la parte bassa. Però ci fermiamo sempre a questo punto. Mai fare questo perché è un punto morto. Non serve a niente. Perdi la contrazione del gluteo. Sì. Dunque entrambi sempre con la contrazione. Molto bello. Sempre costante. Allora prova a farlo con la gamba destra. Quindi vado con i piedi in fuori. Parti così. Sì. Pega un po' di più. Così. No no. Di meno. Così. Così. Verso fuori. Esatto. Tieni sempre contratto. Sempre sempre sempre. Non lasciare. Dovresti sentirlo proprio forse anche qui in alto. Sì. Lo sento qui. Sì. Esatto. Qui proprio nell'attaccatura. Sì sì sì. E lo puoi fare sia così. Però devi cercare di tenere il busto un po' più dritto. Un po' più dritto. È solo il bacino e la gamba a ruotare. O se no invece hai detto. Pensa allo slancio. Alla spinta normale. Esatto. La contrazione iniziale del gluteo. Me lo fa già tremare. Sì. Perché è un lavoro talmente impegnativo di partenza. Che all'inizio è veramente molto faticoso. Infatti per quello fai dieci ripetizioni cioè si è già arrivato. Senza peso. Penso che con due esercizi insieme riesci a rompere abbastanza fibre alla fine. Molto interessante. L'unica cosa che dico a casa. Chi si approccia adesso e lo prova a fare. Abbiate pazienza perché inizialmente non lo sentirete. Perché non siete esperti. Perché poi neanche il muscolo non è attivo. Bisogna provare, riprovare. Finché non sentite qualcosa che si muove. E poi nel tempo ovviamente verrà sempre facile. Perché anche la contrazione iniziale. Anche per uno come me che comunque si allena tutti i giorni. È difficile. Cioè io adesso se tengo la contrazione così mi inizia già a tremare. Ah sì sì. Perché già a fare questo mezzo esercizio sento il muscolo. Allora adesso dove mi porti come terzo esercizio? Allora adesso facciamo la pressa e facciamo la pressa però cercando di escludere anche lì il quadricipite. Nunca riusciremo lo stesso, essendo così bravi noi, a reclutare solamente il gluteo. Io mi sento veramente un neofita con lei, sto facendo delle cose in cui veramente tipo la contrazione del gluteo mi sembra di essere un bambino alle prime armi. Allora magari mettiamo due pesetti, a basso di uno la pressa. Cosa dobbiamo mettere? 10 kg di 10 kg? No 10 kg li lasciamo a qualcun altro. Quindi perché li avete in palestra? Allora a me sono una ragazza che mi piace caricare ma non posso più di tardo. Ok. Ho fatto soltare il microfono. Adesso lo rimettiamo il microfono. Vai metti due per parte. Ok. Ho visto che hai steso la seduta? Sì non tutta. La tengo nella via di mezzo così che riesco a fare con questo peso il movimento giusto. Allora teniamo i piedi nella via di mezzo. Io tendo sempre un po' ad aprire le punte perché mi permette il movimento delle ginocchia verso l'esterno. Però la cosa importante negli axe squat e nella pressa è di reclutare il gluteo mettendo tutto il peso sui talloni. Quella è la cosa fondamentale. Quasi come se la punta non toccasse. Esatto. Potete anche leggermente sollevarla. Ok. Larghessa un po' più delle spalle. Punta un po' un po' in fuori. Non distendere mai completamente le ginocchia perché ci facciamo male. Male assolutamente io odio. E su. E così ti lavora un po' morale un po' anche o no? No solo il gluteo. Mamma mia. Parti anche qui già contratta col gluteo anche qui? Sì. Sempre. Perché riesco ad attivarlo per primo. Prima che si stancano gli altri muscoli. Perché diciamo il muscolo che tu lavori di più è il gluteo fondamentalmente nella parte bassa. Sì. Perché il quadricipito hai detto che giustamente una bichini non lo deve avere. Lo alleno poco. Lo alleno con la pressa. Solo con la pressa. Ok. A volte la squat ma ha alternato veramente poco. E invece il femorale lo alleni ogni tanto? Con gli stacchi. Perché ho visto che ce l'hai già molto sviluppato probabilmente. Sì. Quindi non hai bisogno davvero più. Non li faccio mai specificatamente. Ah no. Magari negli affondi in camminata, nella pressa vengono reclutati ma non li faccio di precise proprio lì. Ok. Vieni. Voglio provare. Allora mi devo ricordare di partire subito con il gluteo tirato. Esatto. Allora. I piedi un po' in fuori così. Poi spieghiamo anche che più i piedi vengono messi in alto. Più lavori femorali. Più lavori femorali del gluteo. Esatto. Più li metti in basso più lavori del quadricipito. Quindi devo stare alto. Poi volendo te li potresti mettere anche un po' più in alto. Addirittura. Sì. Un po' in fuori hai detto. Sì. Il gluteo lo tengo. Che stringi. Io se ti devo dire sento un po' anche il femorale. Ok. Poi lì è questione anche di attivazione tua del muscolo. Però sì, sento la parte. Se tu l'attivi prima. L'attaccatura del gluteo qui. Esatto. Se più tengo stretto il gluteo più sento la parte. Esatto. Riesco a isolarlo completamente. Perché hai tanta esperienza. Sì. È un bel esercizio anche questo. Perché vedo che ci sono anche molte ragazze che non vogliono allenare il quadricipito ma ha sempre il gluteo. E per isolarlo bisogna fare certi esercizi. Certo. E movimenti sì. Poi insegniamo ai ragazzi a scaricare. Esatto. Perché giustamente era tutto in ordine. E quindi noi che siamo un po' più maturi. Io perlomeno rispetto a te ancora di più. Che così capiscono che nelle varie palestre devono scaricare le macchine. Esatto. Qui era tutto in ordine e riportiamo in ordine come era. Esatto. Bene. Ora. Andiamo a fare. Fammi pensare. Mezi stacchi. No, no. Vieni con me. Mi è venuta in mente una cosa. Ma guarda che femorale che ha. Che femorale. Wellner. No, sì. Quella è una Wellner. Dopo non ti piacevi più. Jacopo ci ha fatto vedere le foto del gluteo femorale di Francesca quando l'ha allenato. E lei ha detto che è stata sei mesi senza allenarsi. Perché ovviamente il suo preparatore gli aveva detto passiamo di categoria andiamo nelle Wellner. Lei non ha voluto. E quindi ha fatto sei mesi di cardio. Per cercare di scendere il più possibile di massa magra dunque ho perso 4 kg di muscolo per poi tornare di nuovo in un fisico più armonioso. E qui torniamo al discorso della genetica. Che lei è una su purtroppo un milione. Nel senso una ragazza che ha la potenzialità di crescere così. Arrivare all'Olimpia uno ci può mettere tanta voglia, tanta passione ma se uno vuole competere e vincere la genetica è importante come in tutti gli sport. Sì, è importante però comunque. Meno qui che in altri sport. Non ci soffermiamo nel senso che chi non ha la genetica può comunque fare tanto. Tanto. In questo sport la meritocrazia è tantissimo. Quindi uno che si allena a sodo, che spinge può ottenere i suoi risultati, può torsere le sue dissoddisfazioni. Ovviamente per arrivare all'eccellenza, come in tutti gli sport, c'è bisogno della genetica. Però questo non vuol dire che uno che si approccia alla palestra non possa divertirsi, gareggiare, vincere magari delle gare, perché tutto è possibile. E comunque l'allenamento che noi stiamo andando a fare è valido anche per gli uomini. Se noi adesso lo applichiamo al gluteo, quello lo potete applicare nei pettorali, nel bicipite quando lo andate ad allenare. Sapersi allenare fa la differenza e quindi i risultati, oltre ad avere della genetica, si ottengono anche con un allenamento giusto, con ovviamente tante esperienze. Perché probabilmente quando hai iniziato non avevi tutta questa esperienza, tutta questa connessione mente-muscolo. Andiamo a fare questa cosa? Allora, sì, esatto. Allora, oggi facciamo, adesso facciamo gli affondi incrociati. Sì, si conoscono gli affondi normali, affondi camminata, affondi da fermi, ma i crociati perché andiamo a ritutare sempre la parte alta del gluteo. Questo povero gluteo lo andiamo sempre a caccarmi, vogliamo sempre sto culo. Ok, allora, te lo faccio vedere frontale e poi te lo faccio vedere girata. Allora, l'importante è fare il passo e poi fare l'affondo appunto con il passo incrociato, ma avendo questa rotazione qui. Quindi stai dritta con il busto e ruoti il... Ok. E contrai. Stanno? Sempre. Poi ti alzi di nuovo e di nuovo, tenendo sempre stretto, contratto il gluteo. Io cado. E anche qui vai a sfinimento sempre? Sì. Quindi non li conti, te. Qui metto del peso, comunque arrivo anche a 6 kg. Dove te lo tieni per? Con i manubri. Ah, i due manubri esterni li tieni. Con i manubri così, però adesso ti lo faccio provare prima senza e poi... Allora, non prendetemi per il culo là davanti, eh. Allora, sto così. Esatto. Poi contraghi il gluteo, incrocio. Devi contrarre questo qui, esatto. Ok, incrocio così. Sì. Puoi fare i passi più lunghi, fai i passi più lunghi. Così? Ok, sì. Che bel lavoro. Mamma che cresce questo. Questo è un po' pena. Poi con sto pando mentre l'uncino qui? No, qui vi devo dire che ci vuole veramente una grandissima, grandissima esperienza. Perché... Passi lunghi, lunghi, lunghi. Ok. Ecco, adesso lo sento. Esatto. Cerca di ruotare poi soprattutto, quando fai il passo, ruota. Più ruoti col busto, di qua, così, più dovresti sentire la parte di fianco. Molto di più. Qui? Sì, esatto. In altissimo. Mamma, è troppo per me. Molto bello. Sì. Molto impegnativo. E si può fare con delle bande elastiche, a corpo libero o semplicemente poi con dei manubri, ecco. Sì, anche qui, anche qui il fatto di tenere il busto dritto e incrociare fa la completa differenza tra sentire e non sentirlo. Quindi nelle ragazze che segui in palestra... Io faccio applicare queste cose qui. Fantastico, quindi otterranno dei risultati se sanno fare. Sono già affaticato, rendetemi conto, perché è impegnativo. Poi senza peso, non abbiamo usato pesi. Mi fai vedere un ultimo esercizio? Sì, stati. Sembrano semplici, ma non lo sono. Qui usiamo il peso. Per me sono dieci, per te non lo so cosa possono essere. Sì, vabbè, ma adesso tanto è meglio capire l'esercizio. Si possono fare o a piedi paralleli, e te li faccio provare in entrambi i modi, o a piedi aperti. Mi dici come lavora diversamente il gluteo? Allora, essendo più connessa con il muscolo, riesco a sentire e percepirli in realtà più con i piedi paralleli. E dove lavoriamo? Che parte? Parte basta, dunque andiamo a lavorare sull'attaccatura a gluteo femorale. Esatto, l'attaccatura a gluteo femorale, che è quella che poi, diciamo, quella che si vuole migliorare sempre di più, no? Soprattutto le donne, certo. Esatto. Ma anche gli uomini. Li facciamo adesso con i piedi leggermente a piedi. Come li fai fare alla maggioranza delle persone. Quindi te mi stai già contraendo il gluteo? No, aspetta, adesso devo ancora in grado. Non sei ancora arrivato. Però lo contrai anche qui sempre, parti sempre col gluteo tirato. Esatto, come se dovessimo andare a fare una sorta di stretching. Ok. Tirassi i miei glutei sul del soffitto. Dunque li porti su e vai indietro. Tenendo la gamba non flessa, non tesa. Leggermente pegata. Leggermente flessa. Esatto. Quindi tu fai un movimento proprio solo perché non tiri il gluteo. Sì. E non vado neanche nella massima contrazione. Mi fermo qui, non faccio questo. Perché questo? Eh, perché mi muore il gluteo. Non c'è più... Non senti più la contrazione? No. E poi dopo va tutto sui quei ricipiti. Dunque diciamo che li tengo sempre tesi. Molto interessante questo, però ho fatica a farlo perché comunque ci sono esercizi nuovi per me. Io dico sempre di basculare all'indietro e di venire su ma non mai alla massima contrazione. Ok. E ti lavora l'attaccatura gluteo femorale. Quindi qui. Sì. Te... Ma lo faccio anch'io leggero. Scegli te il peso. No, ma lo... Non vogliamo... Prendo i 20 kg. Ok. Vediamo come lo faccio. Allora. Hai detto. Parto così. I piedi un po' in fuori. Io allargherei di un poco... Esatto. Poco di più. Ok. Facciamo strisciare i manubri sui quadricipiti. Ok. Ok. Non aver paura di cadere. Però hai visto che stringo il gluteo non dovrai... Mi dovrei fermar prima. Sì. Ferma. Esatto. Visto come tremo? Sì, vedo. Perché lo sento. Sì, sì, ma si vede. Invece con i piedi paralleli. Esatto. Così? Sì. Cerca di tenermi un po' più tesa. Ok. Forse lo sento di più così. Esatto. Ma perché tu hai già una... Lo sento molto. Una percezione del muscolo più alta. Lo sento molto di più. Lo riesci a sentire di più. Sento proprio l'attaccatura qui. Sì. Invece col piede in fuori un po' meno. E questo è per far capire appunto che la metodologia è molto più importante magari del... singolo esercizio dunque. E quindi se dovessimo fare una ipotetica scheda per una ragazza che vuole iniziare, si fa questo giro di esercizi qui. Esatto. Fa quattro serie per esercizio. Penso che si è allenata vero bene. Quattro serie per ogni esercizio. Ripetizioni finché ce la fate dunque al massimo. Tu quindi non metti ripetizioni? Non metti il numero di ripetizioni? No. E' una domanda che mi è venuta. Le donne le allena i polpacci? Tu li alleni i polpacci? No, io non li alleno. Però molte donne le allena. Molte donne le allena. I miei sono cresciuti da soli. Non li avevo perché sono una ballerina. Dunque avevo la gabbina così. Facendo il cardio in realtà. Addirittura. Facendo il cardio in salita mi sono aumentati i polpacci. Però sì, ci possono fare ovunque anche senza peso. Basta che ci sia un poco poco di rialzo. Però sì. Penso che vi sia piaciuto molto. Oltre che vedere degli esercizi che probabilmente molti di voi non hanno mai visto. Ma anche capire come un atleta professionista si allena. Quindi l'importanza della testa in uno sport che invece potrebbe sembrare esclusivamente fisico. Quindi quanto è importante la testa. Quanto è importante una semplice differenza di esecuzione. Come possono essere i piedi in fuori, i piedi in dentro. Come può cambiare completamente l'esecuzione. E ovviamente questo è specifico per lei. Quindi ovviamente quando invece una ragazza ha magari i quadricipiti sottodimensionati. Ovviamente bisognerà andare a lavorare magari con una metodologia del genere. Ma magari più sui quadricipiti. Sì, più sui quadricipiti. Invece per l'upper body facciamo spoileriamo qualcosa. Perché se questo video piace e mettete tanti like. Non vi dico il numero perché potrei essere eccessivo. Ritorno da Francesca e vi facciamo vedere un allenamento dell'upper body. Quindi se questo video vi è piaciuto vogliamo tanti like io torno. Se no non torno più non la vedete più. Quindi per gioco per voglia. Quindi cercate di essere tanti a mettere i like. Perché vi faremo vedere la stessa metodologia nella parte superiore del corpo. Do un piccolo consiglio. Partite sempre dalla parte inferiore per andare alla parte superiore. E fate degli esercizi in cui siano molte le ripetizioni pochi carichi. Perché si va a simulare la circolazione. Ok. E chi tende ad accumulare nella parte bassa di solito ha degli accumuli. La circolazione fa sì che... Velocizza. Esatto, velocizza il processo. Questo qui è un piccolo consiglio che mi va di dare a loro. Esatto. Gratis ve l'ha dato. Spero che il video vi è piaciuto. I miei leggings vi siano sfaciuti. Il mio arrecchino come sono vestito vi sia piaciuto. Erano i suoi però mi hanno regalato. Questa volta mi metti il bike. Adesso mi allenerò sempre solo con questi. Se il video vi è piaciuto mettete un like. Ne vogliamo tanti perché appunto torno a fare la parte superiore del corpo. Accendete la campanella. Ridiciamo anche la pagina Instagram di Francesca. Francesca official page. Francesca Stoico official page. Vi salutiamo Francesca e io vi salutiamo. Ciao a tutti. Alla prossima.